Oh, è giunta l'ora dei bomboloni ragazzi, siamo in diretta, vedete qua alle mie spalle, abbiamo dei single che hanno resistito fino a tardanotte e che stanno facendo lo sgnam dei bomboloni ragazzi, bomboloni, vai che si sgnamma, e vai, guardate qua ragazzi, si sgnammano bomboloni, e vai, tardanotte, bomboloni, quello che ci vuole ragazzi, dei single, chi resiste fino a tardanotte, bene, che roba, che roba, vai, 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 vogliamo vedere la crema che squizza, faccia vedere lei, ecco qui che sta squizzando la crema, vedete, questo signore, anche la robetta, non so perché, l'Adriana, vedete, dieta infatti, ha un fisico da modella, complimenti, esatto, ecco qua, bene, abbiamo lo sgnam dei bomboloni, io lo sgnam ragazzi perché sono a dieta, devo calare perché la prova costume è alle porte, e quindi, vabbè, vabbè, ok, dai ragazzi, un salutone a tutti quelli che ci stanno guardando, e guardatevi il nostro sgnam, ciao, domani siamo a Milano, Milano Ro, ragazzi, siamo tantissimi, e domenica saremo a Reggio Emilia, mercoledì saremo a Ferrara, venerdì saremo, non mi ricordo, a Vigevano, Vigevano, sabato saremo ad Avigliana di Torino, e domenica saremo, non mi ricordo, a Parma forse, non mi ricordo, devo guardare, guardate il programma, ciao ragazzi, hai già finito, Roberto, ok, bene, bene, ah, bene, si sgnamma, si sgnamma, ok, ciao ragazzi, ciao, 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 Ciao